allora chi siamo? te ne rompo! bene allora voglio dirti una cosa che la signora la Roby la parrucchiera che siamo qua fuori mi ha dato un contributo per il famoso affitto per il famoso affitto più una signora che era lì che lei curava per fare...perfetto e quella signora ci ha dato anche è della Toscana della Maremma io ti do i soldi guardali qua fagli vedere un attimo così facciamo la ricevuta vieni di qua che c'è anche l'albero vieni di qua abbiamo anche l'albero non diciamo 20 40 280 va bene eccolo lì facciamo la ricevuta allora sì alla signora due ricevute due ricevute va bene e la signora Toscana ti ricordi come si chiamava? Sara Sara? sì Sara della Maremma ha detto della Maremma Toscana è buon benissimo dai così allora facciamo questa ricevuta e continuiamo questa famosa raccolta perché dobbiamo ancora adesso non c'è ancora ha telefonato la signora no probabilmente lunedì andremo a casa sua per capire bene come dobbiamo fare va bene benissimo ok capitale della cultura speriamo che porti un po' di soldi per tutti i goriziani in maniera che tocca più fare queste storie qua esatto che non serve proprio per me va bene salutiamo amore a tutti te le rompo e sempre con voi